E' la raga Quinex e bentornati sul canale, oggi siamo io con la ragazza su Clash Royale e quest'oggi visto che tra 20 minuti scadrà la possibilità di fare le battaglie 2 vs 2 proveremo a vedere cosa succede se proviamo a fare appunto una battaglia di queste all'ultimo secondo ma visto che appunto vanno ancora 22 minuti faremo subito e subito un po' di corona e questo è il meno che dopo il bambino della corona così apriamo avanti poi la fine del video ragazzoni, allora, giù ci si imparto, bello, cose si impunto da fare e non ho capito niente ma ragazzi fate appunto che abbia un senso comunque cominciamo il video con una bella like challenge anche quest'oggi perché voglio che proviate a lasciarmi il mi piace utilizzando l'indice del piede che non mi ricordo come si chiama mentre urlate scaloppina tipo così che ragazzi con il piede lasciate il mi piace o con lo smartphone insomma ragazzi sul mouse come vi parla tanto ormai abbiamo i piedi come le scimmie non riusciamo a fare tutto comunque con l'indice del piede lasciando il mi piace in questa maniera urlando scaloppina scaloppina appunto mentre si lascia il mi piace sarete abilitate a questo ignorantissimo video meglio al proseguimento e alla visione di questa ignoranza ma ragazzi allora ovviamente dopo aver lasciato il mi piace per consolidare il ciò bisognerà commentare qua sotto con arcobalercio perché ragazzi dove finisce l'arcobaleno c'è la minchia del lercio quindi ragazzi il fratello lercio di zio fester quest'oggi servirà per sigillare la live challenge appunto con il commento arcobalercio e quindi detto questo farmiamo due corone e vediamo cosa succede a startare questa fantomatica battaglia all'ultimo secondo ragazzi meno male che mi taglio sta partita perché abbiamo vinto sì però ragazzi ti dico pubblico l'intelligenza di te stessere io pensavo alla torre inferno in mezzo lui col tornado mi ci allontanava le truppe ma non nel senso così che la torre le beccasse no perché che vandavano sulla torre è un coglione cazzo tra l'altro eravamo contro i waffle dunque raga ci manca ancora una colonnetta quindi evitiamo di fare questa poi aspetteremo per fare proprio la partita decisiva vediamo chi mi trova vediamo chi mi trova vediamo chi mi trova sono assissime sembra che ci sono messi a composto da un paio di gambe aperte e da una griglia lo battezzeremo gambe aperte alla griglia gambe aperte alla griglia ragazzi però dovevi stare proprio concentrato e lui si spara cagato comunque vai gambe aperte vai così ragazzi partiamo cattivici mi guarda quelle troie guardate che roba ragazzi all'assalto trugina di guai marma scabbia no la punta molto male ragazzi benissimo benissimo appuntato ragazzi dove andate appunto dove andate ragazzi guardatelo guardate mamma mia gambe aperte alla griglia che ci spiana la strada però c'ha distrutto le rape non si fa ragazzi ci hanno fatto un rapicidio comunque ragazzi diventiamo brutto log ragazzi carichiamo mandami qualcosa manda qualcosa manda qualcosa qualcuno è perfetto ragazzi va l'attacco va l'attacco va l'attacco veloce 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 così così perfetto eh no però le troie fa un paio male però lui butta la moneta ragazzi attenzione butta la moneta mandiamo ragazzuoli il patata qua ad assorbire un po' di danni ragazzi non vedete comunque che siamo contro Rzzel e Heisenburger quindi lettere dell'alfabeto vomitate e un hamburger di carne ma va bene così bravissimo con la principessa fa il fuori la sua principessa perfetto ragazzuoli molto bene ok la mega rapa truciderà la principessa in maniera orribile ma rimaniamo concentrati adesso lasciamo fare la mega rapa anche se darà un colpo chi se ne fotte arriva con le sue rabozze aspettiamolo mandiamo Zizzù qua dietro guardate che l'ercio schifoso brutto stronzo nulle eh guarda ragazzi però con la carogna è cattivo è cattivo come male ma Zizzù che non me lo sciotti il mio Zizzù non me lo sciotti il mio Zizzà ragazzuoli diamoci di carogna vai carognole vai gambe aperte la griglia bravo gambe aperte vai così dai gambe aperte vai così bravo grigliato così ragazzuoli punti oltre con gambe aperte alla griglia che se mi sento buono sembra che stia guardando un porno ma ragazzi ci sta guardate come legnero ragazzi quasi quasi prendiamo la principale ragazzi quasi quasi proviamo rush alla principale mamma mia gambe aperte mamma mia che squadrone che c'è quest'oggi piazzimo il patato davanti all'ercio che gli farà un po' da preserva danni giù di raffer e poi ponendo volante vai così dai 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 coccole dai ma che se ne fotte però andiamoci bene consiglio di coccole legnateli legnateli più che potete ragazzi del giorno qua si parte cattivici Luca c'è la polenta molestissima attendiamo che il patato avanzi un attimo dopo di che ripartiamo di carogna cattivi in maniera pestata riazziamo le rape diamoci di carogna senza disegno vai così va ad attacco va ad attacco bravissimo così non la polenta vai così ad attacco polenta e signor tre colone ragazzi che cattiveria mamma mia gambe aperte alla griglia che compagno di squadra sei cotto i genitali per farci portare a casa la vittoria e di conseguenza battiamo Heisenburger e quell'altro che sembra che abbia vomitato il suo nome signori tre corone quindi chiediamo anche il baule della corona e ragazzi champagne che compagno di squadra atomico ogni tanto ragazzi capita non capitano solamente gli idioti alla Ersin o tipo il notaio ma ragazzi veramente da dio così completiamo il baule e adesso spettiamo il countdown di questo 2vs2 e vediamo appunto cosa succede se proviamo a startare questa battaglia proprio quando manca un secondo spaccato vaffanculo tre due ok adesso 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 ce la facciamo ragazzi attenzione startiamo la partita l'ultimo secondo deve venire una cosa veramente spettacolare anche per costituito che prima di luglio non le rimetteranno più ok ragazzi lui parte molesto subito siamo assieme a Bob e attenzione mangiare il patato qua dietro ragazzi proviamo una carica proprio stronza così ragazzi un po' del ca lo sapevo ragazzi non sapevo no no ragazzi abbiamo sputtanato il patata ragazzi prendiamo del danno prendiamo del danno non prendete del danno non prendete fate i buoni porca trova il signor balocco faccia qualcosa ecco ok ragazzi il signor balocco ma il signor Bob non il signor balocco dunque anche il canone quindi una notevole raspa in più per evitarci di passare ma se non sprechiamo più l'uomo patata andiamo bene riazziamo le rape demos e le rape ma con le rapunze le brave rapunze ragazzi abbiamo terminato tutto ok stiamo a vedere cosa fa stiamo a vedere cosa fa non buttiamo giù le truppe a caso e few moments later oggi sono giuseppe e maria fermatevi fermatevi porca trova ragazzi vai per chi ha un po' di baranza davanti in tempo perché non ci arriva mai giù il tempo porca luna stronzola ragazzi odio gole oh gole ma un cancro porca trova ragazzi cosa succede se startiamo una partita all'ultimo secondo nella 2 vs 2 che ci aprono il culo come un mandarino polenta volante vaffanculo attenzione guardate bob attenzione grande signor rapper vada così lei è un fenomeno ragazzi guardate che cattiveria il rapper bravo bob bravo bob però le rape potevano anche star ferme senti ma si possono mangiare le banane ragazzi lasciamo dalla debatte vai super rush vai così vai così vai che rogna vai l'attacco vai vai carognozzo ragazzi però non va bene non va bene questa cazza di porca vabbè però non va bene comunque se liberiamo lo zio forse liberiamo lo zio forse liberiamo lo zio teniamo pronta la torre infernale qua in mezzo va l'attacco prendila 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 calzarola ragazzi male male malissimo ragazzi malissimo il colpo di genio che ha bloccato tutto ragazzi è stato un fenomeno attenzione grande bob bravo bob cacciami la ripalla dei tuoi fammi vedere come si fa a respingere un attacco bravo ragazzuoli attenzione attenzione ragazzi mamma mia e bob ha fatto un miracolo sulla principale quindi volendo possiamo provare veramente a prendere la terza ragazzi ma è una torre infernale qua in cima porca troia ragazzi no 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 butta la gelo butta la gelo butta la gelo butta la gelo ragazzi attenzione attenzione si mette male si mette male fatelo fuori golem fate fuori golem fate fuori golem guardate quanto cazzo le va in golem ma com'è possibile dare che fa troppo danno fa troppo danno porca sozzona ragazzuoli allora dovremmo uscire da un colpo al principale bravo così bravo così va l'attacco bravo 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 ragazzo così così perfetto ragazzi vamo sti carogna vai carognotto vai carognotto vai carogna vai carogna ragazzi così dai ti prego torri infernale subito 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 meno male eh però no ragazzi davo un altro colpo alla carogna la portavamo la portavamo a casa non ci credo ragazzi ma purtroppo ci termina lui ragazzi ragazzi perdiamo per uno sputo se la carogna fosse riuscita a dare un colpo in più forse saremmo riusciti a portarla a casa oggi abbiamo avuto dei compagni letteralmente fenomenali vi schifo le prime partite quelle dove ho fatto il buone della corona perché ho trovato assieme gente con i calli dei piedi del poso degli occhi posso garantire che un cieco faceva mosse strategiche con più intelletto ragazzi mi è sparita la connessione appena ho finito la partita mi è andato bene che sono riuscito appunto a registrarmi fino alla fine perché non sono neanche riuscito ad arrivare nello schermo principale che mi era già saltato comunque sia abbiamo un baule della corona e quindi apriamoli insieme festeggiamo questa fine delle due PS2 nella maniera migliore cacciami fuori la leggendaria così ma noi non sciampagniamo del tutto ragazzi carichi vamos con questo buone della corona che ci riserva la bellezza di 6,2,3 un'altra di oro prossima caltotta due volte le gemme due volte la polinta volante ragazzi due volte la polinta volante prossima ancora sei volte la capanna di una meccana da fitness prossima ancora ragazzi e chiudiamo chiudiamo questo baulotto con ragazzuoli va bene un bel frullato ci sta ragazzi ricapitoliamo e volendo questo baule possiamo chiamarlo un frullato di polenta perché sia il tornado mi garba e la polenta volante anche quindi a parte il resto degli obrobli la gattiva benissimo diversamente da questo spero se non vi divertite e trattenute per qualche minuto se non vi potete lasciate un bel po' di giorni in commenti non mi raccomando iscrivetevi al canale se volete torneremo finalmente a fare qualche battaglia in arena e io andato con questo vi ricordo che alle 14 caricato video flammes mi raccomando andatelo a vedere sempre e comunque vi saluto qui da like se è tutto bella rete grazie